L'ingegner D'Aurelio è stato nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di un dirigente tecnico per il quarto settore ambiente e infrastrutture, non ai sensi dell'articolo 23,4 del regolamento, quale dirigente ad interim di tale settore, bensì ai sensi dell'articolo 23,3 numero 2 dello stesso regolamento in qualità di esperto delle materie di concorso. L'ho messo nero su bianco il Tarabruzzo che era espinto il ricorso depositato dall'ingegnere Fabrizio Pedrilli, escluso dalla prova orale, doveva aver sostenuto con un punteggio di 39 punti le prove scritte. Secondo il ricorrente, assistito dall'avvocato Tommaso Marchese, il dirigente non poteva essere membro della commissione giudicatrice, poiché la nomina non sarebbe conforme alla legge, vista la proroga d'incarico che non sarebbe prevista dalla vigente normativa. Per il Tar, il ricorso deve essere rigettato, essendo rilevante ai fini della legittimità del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, la questione inerente è la legittimità del decreto sindacale, cioè la nomina di D'Aurelio. I giudici amministrativi che avevano precedentemente accordato la sospensiva hanno quindi rigettato il ricorso, volto a selezionare il dirigente del quarto settore. Nella prova orale sono stati ammessi solo due dei sedici candidati, la trafila ora, salvo un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, può ripartire.